Prima di preparare il programma per la nuova stagione, ci siamo chiesti cosa potesse portare lo spettatore al lux. Abbiamo pensato ad una programmazione leggera, ma non priva di contenuti. Presenteremo infatti quattro commedie spassose, divertenti. La prima è il 10 di ottobre, poi abbiamo pensato anche a uno spettacolo per ragazze, ragazze da 10-14 anni. Fuori classe infatti è una ricerca sul benessere a scuola che coinvolge sia i docenti che le famiglie che i ragazzi. Intanto, venerdì 11 ottobre, con fuga in Normandia, all'Ux del Rione Sacconago riparte anche il Cineforum d'autunno in calendario fino al 15 dicembre, ogni venerdì alle 16 alle 21 e la domenica alle 21.